A Rezzo vista da una nuova prospettiva, quella di Piero Comanducci, è soprattutto scrutata attraverso l'occhio della sua telecamera per scoprire così tanti piccoli segreti catturati nel corso degli anni. A Rezzo torna a rendere omaggio a Piero Comanducci con una proiezione di filmati inediti al Teatro Petrarca dal titolo Vedute o Visioni, ricordandolo così attraverso una delle sue più grandi passioni. Ringrazio Pierluigi Rossi, l'Associazione Terra di Arezzo, che ha organizzato questo evento che è sabato alle 5 al Teatro Petrarca, dove verrà proiettato questo film inedito a cui lavorava mio padre, che era veramente molto bello e che riesce tramite lo zoom della telecamera a scovare dei segreti all'interno delle opere d'arte della città che sono veramente incredibili. In più faremo anche vedere altri piccoli filmati, molti di questi che nessuno ha mai visto, quindi ringrazio nuovamente l'Associazione Terra di Arezzo. Tanti segreti, tanti piccoli segreti, cosa dobbiamo aspettarci? Non voglio anticipare niente, ma vi faccio un semplice esempio, l'acquedotto vasariano che è stato disegnato 70 anni prima che in realtà fosse realizzato, che quindi ci fa pensare che probabilmente ce n'era uno addirittura prima, è la cosa che a me mi ha colpito di più un animale, che sembra tutti gli effetti un koala in una colonna della pieve, quando ancora l'Australia non era neanche stata scoperta. Quindi sono delle piccole cose che però effettivamente fanno effetto e che a mio padre avrebbe piacere che magari gli studiosi poi possano portare avanti.